E va benissimo, c'è quello da contà, c'è quello da contà. E poi da quanto sembrami voi siete il maggior uomo, subito vi incomincio, la paga il ratto piano. Con l'attentio il mio ordine, che mi dispongo a dar. Mi servivo un rubello, pensato a gruppo eterno. Mi servivo un rubello, pensato a gruppo eterno. Mi servivo un rubello, pensato a gruppo eterno. E poi le vanno a fare un traditore, perché non ce la vanno, può entrare con lui, grazie, 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 grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.